Quante volte nella storia dei fumetti avete visto personaggi che di fatto sono la fusione di due eroi o due villain o un eroe e un villain? La Marvel e la DC hanno creato un intero universo basato su questo concetto e alla fine se vuoi far vendere un personaggio nel modo più veloce possibile e soprattutto se questo personaggio è nuovo, questo è un metodo da utilizzare. C'è da dire che c'è uno di questi personaggi, proprio Venom, e questa proprietà ce l'ha intrinseca, senza creare universi strani, senza creare cose strane, semplicemente lui effettivamente può legarsi a tutti quanti i personaggi dell'universo Marvel e la Marvel questa cosa la sa e l'ha sfruttata diverse volte. Oggi parliamo di dieci personaggi che sono stati legati al simbionte Venom, parleremo dei loro poteri, di quando si sono legati e il perché. Ovviamente questi dieci sono personaggi che si legano a Venom e non è che ci rimangono per moltissimo tempo. Quindi in questa classifica non troverete per esempio Spider-Man, Flash Thompson o Eddie Brock, altrimenti non avrebbe avuto senso a mio parere una classifica del genere. Non ho messo neanche McGargan per farvi capire, ho messo proprio dei personaggi molto famosi che però hanno utilizzato il simbionte per poco poco tempo. Detto questo io direi che possiamo cominciare. E prima di cominciare vi ricordo una cosa importante, ovvero che questo canale fa parte di un network di canali molto più grande chiamato Nerdzilla. Se vi va trovate il link tri in descrizione per trovare tutti gli altri nostri canali, tra cui Geekzilla per le serie TV e film, Mera Mera per One Piece e Red Saiyan per Dragon Ball. Detto questo direi che possiamo cominciare e partiamo dalla decima posizione. E a proposito di persone che hanno tenuto il simbionte per poco tempo, abbiamo la torcia umana. La torcia umana si lega al simbionte di Venom per tipo 4 secondi. Parliamo di un fumetto chiamato Marvel Adventures Spider-Man, siamo nel numero 24. E a un certo punto Spider-Man porta a Reed Richards, quindi al Baxter Building, per delle analisi il simbionte. E lo lascia lì per diverso tempo, cosa che succede in realtà più di una volta effettivamente. Qua abbiamo anche una scena molto banale in realtà, in cui Johnny dice, sai che quasi quasi a me il nero piace, forse sto meglio in nero che in blu, e quindi entra nel laboratorio per provare il simbionte. Il simbionte quindi si lega a Johnny e abbiamo questa tuta particolare, che sembra essere un po' quella classica comunque dei Fantastici 4, ma in versione nera. E Johnny decide proprio di utilizzarla, ma quando utilizza i suoi poteri, e quindi dice semplicemente la parola fiamma, ovviamente il simbionte si stacca da lui. Perché? Perché come molti di voi sanno, la prima grande debolezza dei simbionti, oltre agli ultrasuoni, sono proprio le fiamme, e quindi semplicemente il simbionte non può essere legato a Johnny, nonostante questo legame ci sia stato, anche se per pochissimi secondi. Andando avanti, in nona posizione, ho voluto inserire Multiple Man. In realtà Venom si lega a questo personaggio, che ha l'abilità ovviamente di sdoppiarsi, proprio in una realtà alternativa. Parliamo di Old Man Logan, avete presente quell'universo lì? Ecco, qui il simbionte si lega a Multiple Man, e che cosa succede ragazzi? Ovviamente si moltiplica anche lui, creando diverse versioni di questo uomo, di fatto, con il simbionte Venom. E vanno a cacciare insieme il nostro occhio di falco, quella versione anziana, tra l'altro cieco, che cerca ovviamente di sopravvivere a questa invasione di simbionti. Alla fine, durante uno scontro, tra l'altro ne rimarranno tre, tra l'altro tre super Venom, perché si saranno uniti alla vicenda, dando ovviamente un grande spettacolo. C'è da dire che il simbionte fuso con Multiple Man, per quanto mi riguarda, poteva essere utilizzato meglio. C'è da dire che la Marvel spesso sceglie quanto e come utilizzare i personaggi, se sono popolari, e purtroppo Multiple Man non lo è. Però effettivamente qualcuno che può sdoppiarsi, e in questo caso sdoppia anche il simbionte, può essere veramente, veramente pericoloso. Ed è una combo, secondo me, da apprezzare sicuramente, e da apprezzare molto di più rispetto alla combo Torcia Umana-Venom. Mentre adesso direi che possiamo andare avanti, perché alla fine questo è un legame che dura veramente pochissimo, quasi insignificante. Arriviamo invece a Gwen Stacy, ovvero Spider-Gwen, che in questa versione qui prende anche il nome di Gwenom. Beh, ovviamente una Spider-Man, prima o poi, dovrà avere a che fare col simbionte. Siamo su Terra 65, e la storia assomiglia un pochettino a quella di Peter Parker. Difatti, Gwen Stacy assiste a una cosa veramente orribile che non augurerei effettivamente a nessuno. Suo padre, agente di polizia, viene picchiato e mandato in coma da il Rhino del suo universo, per ordine di Matt Murdock. Voi direte, Matt Murdock, ma sarebbe Daredevil? Sì, peccato che nella terra di Gwen, di Gwen Stacy in particolare, di Spider-Gwen, Matt Murdock è un po' una sorta di Kingpin, un boss del crimine. Quindi, in poche parole, questa cosa ovviamente ferisce moltissimo Gwen, che si lega al simbionte proprio in quel momento. Perché dico che la storia è simile a quella di Peter Parker, anche se per adesso non sembra esserlo, proprio perché noi abbiamo questa evoluzione di Gwen che inizia ad abbracciare questo lato oscuro in tutti i sensi diventando Gwenom e diventando anche molto più violenta non solo con i suoi rivali, ma piano piano anche con i suoi amici. La versione di Gwenom era inevitabile nel momento in cui tu crei una versione di Spider-Man che anche popolare prima o poi dovrà legarsi al simbionte. Questa è proprio una regola. Però comunque è una versione molto molto iconica, secondo me. Una delle versioni di Venom più belle, secondo me, soprattutto se legata a un personaggio femminile. In molti però non conoscono questa storyline e mi piacerebbe raccontarla un giorno sul canale. Quindi ovviamente se non volete perdervi video del genere vi consiglio di iscrivervi, così non lo perdiamo. E direi di continuare arrivando alla settima posizione dove ho voluto inserire The Punisher. E questo è un legame figo in realtà, ragazzi. È un legame che puzza di anni 90 e di fatti appartiene appunto a una what if del 92. Quindi in poche parole what if Venom si fosse legato a Frank Castle ed è quello che succede. I due si incontrano ed è una sorta di amore a prima vista in realtà. Anche se c'è da dire che Frank Castle inizialmente ha delle gravi difficoltà a controllare il simbionte. C'è da dire però che i due si trovano su un piano mentale come se fosse una vera e propria relazione. Effettivamente sono due personaggi che funzionano molto molto bene insieme anche per filosofia. Alla fine Venom è stato il protettore letale per moltissimo tempo e se c'è qualcun altro da definire in questo modo io penso direttamente a Frank Castle. Quindi alla fine i due decidono di collaborare davvero e quindi in poche parole stiamo parlando di un'unione anche abbastanza felice. Come detto appartiene solo a un what if quindi anche qui non è un legame che dura moltissimo ma sicuramente è uno dei più memorabili in assoluto e anche prevedibili possiamo dire. Andando avanti arriviamo in uno dei più assurdi in assoluto in sesta posizione infatti ho voluto inserire Deadpool e in particolare parliamo di una storia che ancora oggi la sua conicità è dibattuta in community ovvero Secret Wars Deadpool questa è una storia che ci racconta Deadpool che racconta di una sua partecipazione agli eventi di Secret Wars del 1984 quando il personaggio praticamente manco esisteva ecco secondo questa storia che è molto più recente lui in realtà ha partecipato a questi eventi ma per una serie di cose che sono accadute semplicemente tutti si sono dimenticati della sua presenza secondo questa storia lui incontra al simbionte nello stesso luogo in cui tra l'altro lo trova Peter Parker prima di Spider-Man e lo indossa solo che poi sentendo che effettivamente è vivo lo lascia lì e verrà poi trovato subito dopo da Spider-Man tornati poi sulla Terra quando Spider-Man abbandonerà il simbionte in quella famosissima chiesa prima di legarsi a Eddie Brock si legherà con Deadpool quindi i due decideranno di insomma utilizzare questa sorta di collaborazione e Deadpool si scontrerà anche con Craven che lo confonderà appunto per Spider-Man alla fine Deadpool abbandonerà di nuovo il simbionte e lo verrà trovato appunto da Eddie Brock come detto queste sono storie che teoricamente sono canoniche anche se in molti non le considerano giustamente perché sono effettivamente assurde però sì se fosse così Deadpool non solo si sarebbe legato al simbionte Venom ma lo avrebbe fatto addirittura prima di Spider-Man il che sarebbe effettivamente qualcosa di molto pesante a livello di trama è una cosa però da citare assolutamente perché sono cose che si vedono quindi per me è assolutamente vero e questa cosa è successa almeno è successa nella mente di Wade e comunque la stessa posizione se la merita assolutamente in quinta posizione invece non ho inserito un personaggio ma un intero gruppo ovvero i guardiani della galassia e perché ho inserito un gruppo e non un personaggio perché in realtà il simbionte si lega a tre membri dei guardiani della galassia in successione in modo molto molto rapido stiamo parlando di Groot di Rocket e di Drax e quando è successa questa cosa? a un certo punto Flash Thompson per intenderci Agent Venom viene incaricato di diventare un membro dei guardiani della galassia diciamo il rappresentante della terra in questo gruppo appena prende lo spazio però c'è da dire che il simbionte sente il richiamo degli altri simbionti che stanno a Clintar e quindi inizia ad agitarsi il gruppo tenta anche di portarlo a Clintar ma il simbionte riuscirà a liberarsi e si possesserà appunto di questi tre in successione dando ovviamente un grande spettacolo per poi essere calmato essere portato tranquillamente a Clintar dove avrà anche una sorta di terapia mi viene da dire in cui verrà effettivamente calmato comunque questa è una parte molto iconica in realtà perché è raro vedere il simbionte legarsi a qualcuno è una cosa che la Marvel utilizza scientemente perché sa quanto è affascinante come cosa in questo caso effettivamente lo fa tre volte di fila in praticamente un solo fumetto quindi sì lo fa tre volte di fila dimostra anche quanto può prendere il controllo di alcuni personaggi quando vuole e c'è da dire che vedere Rocket Raccoon con il simbionte è veramente qualcosa di eccezionale in quarta posizione ho voluto inserire X-23 oppure Laura Kinney la figlia di Wolverine che durante una sua avventura trovandosi in un posto molto molto pericoloso con diverse guardie si trovò in compagnia in particolare col simbionte i due decisero quindi di legarsi e c'è da dire che questa è una delle versioni di Venom più sotto controllo in assoluto spesso avrete notato che quando vediamo Venom prende totalmente il controllo del suo host in questo caso è il contrario Laura riesce tranquillamente a maneggiarlo a utilizzarlo e anzi sembra avere un'abilità aggiuntiva che con gli altri non ha mai avuto difatti Laura sembra donare parti del simbionte che non crea noi simbionti ma è sempre una parte di se stesso a dei bambini che sono tenuti prigionieri proprio in questa struttura che aiutano effettivamente Laura a combattere poi quelle parti torneranno tranquillamente al simbionte a comando è un'abilità che non usa nessuno per qualche motivo X-23 riesce ad utilizzarla c'è da dire anche che anche suo padre anche Logan ha dimostrato diverse volte di poter controllare comunque il controllo di qualcun altro cosa che poi è fallita allo stesso tempo moltissime altre volte forse X-23 sotto questo punto di vista hanno deciso di farla un po' più brava un po' più versatile insomma in queste situazioni per non fare una copia esatta di Logan e alla fine ci danno una delle versioni migliori poi sapete che io sono un grandissimo fan di questo personaggio io sono fan in generale dei personaggi legacy dei personaggi che riprendono la maschera di qualcun altro e per me lei è uno dei personaggi migliori in assoluto in quel senso lì e con Venom effettivamente ragazzi danno vita a una figata pazzesca in terza posizione ho inserito Miss Marvel ovvero Carol Danvers in quel momento si chiama Miss Marvel potremmo chiamarla anche Captain Marvel e immaginatevi il potere assurdo che raggiunse Venom in quel frangente stiamo parlando dell'attacco ad Asgard quando Venom era legato a Gargan l'ex Scorpion una versione molto molto violenta che ha iniziato a mangiarsi diversi Asgardiani chiaramente Carol Danvers accompagnata da Spider-Man volevano fermare il tutto e la situazione era veramente veramente pericolosa Carol Danvers che in realtà non ha avuto molto a che fare con i simbionti in vita sua prova quindi a staccare proprio manualmente il simbionte dal suo host c'è da dire però che Venom riesce quindi a trovare uno spazio per approfittare di questa situazione e quindi si lega a Carol Danvers prendendone il controllo stiamo parlando di una versione del simbionte con i poteri di Captain Marvel quindi potentissimo alla fine come riescono a sconfiggerlo insieme a Spider-Man volendo più potere Carol Danvers dice perché non proviamo ad andare in una centrale elettrica ti assicuro che aumenterebbe i miei poteri ovviamente Venom ci casca e con l'aiuto di Spider-Man finisce per elettrificarsi Carol Danvers quindi riesce a uscire e poi il simbionte alla fine si legherà nuovamente al suo vecchio host c'è da dire che questa versione dura pochissime pagine però ragazzi una potenza assurda una delle più potenti in assoluto al 100% in seconda posizione ho inserito Red Hulk e questa è una versione Tamar cioè questo è l'unico modo per spiegare questa versione qui stiamo parlando di una storia che io ho apprezzato molto anche perché in realtà forse sono l'unico che l'ha apprezzata quindi ho avuto campo libero che si chiama Circle of Four a un certo punto infatti ci sono quattro personaggi che finiscono per affrontare Blackheart il figlio di Mephisto pensate questi quattro sono appunto Red Hulk Agent Venom X-23 di cui abbiamo parlato poco fa e Ghost Rider qui ovviamente per affrontare un nemico del genere Red Hulk è costretto a utilizzare la forza dei suoi compagni che decidono quindi di donarla tra questi abbiamo Ghost Rider che dà i suoi poteri a Red Hulk quindi immaginatevi già questa cosa e in più anche Venom decide di utilizzare il corpo di Red Hulk per combattere questa nuova forma chiaramente l'avversario non ha scampo ma ve la lascia immaginare è un Red Hulk che ha il symbionte Venom che guida la moto dei Ghost Rider con i poteri di Ghost Rider veramente non sapevano più che poteri dargli ed effettivamente abbiamo una versione potentissima anche questa dura pochissimo ma se parliamo di versioni potenti forse questa è la più potente di cui abbiamo parlato perché stiamo parlando di più cose messe insieme ed è veramente qualcosa di assurdo in prima posizione invece ragazzi non ci allontaniamo molto da questo perché parliamo proprio di Hulk ovvero Bruce Banner l'Hulk originale tra l'altro questo è un evento canonico che avviene in terra 616 siamo nella storia Absolute Carnage Carnage non è mai stato così pericoloso come prima effettivamente stiamo parlando della versione più forte di Carnage in assoluto e tra l'altro anche questa versione di Hulk Venomizzato non riesce effettivamente a tenere di testa al 100% stiamo parlando però di una versione incredibile e c'è da dire che spesso la semplicità paga e io ritengo Venom e Hulk due personaggi molto semplici in realtà come concetto e la fusione tra i due è qualcosa di eccezionale forza bruta al 100% che donano comunque qualcosa di assurdo ai fan anche se anche in questo caso non dura moltissimo ma sicuramente è una versione estremamente memorabile ragazzi questi sono i 10 personaggi che hanno avuto il simbionte ce ne sarebbero altri che vengono magari di altri universi se volete una parte 2 chiaramente fatemelo sapere sotto nei commenti e noi come sempre ci vediamo prestissimo con altri contenuti a tema Marvel o DC ciao ragazzi